via frattina una delle strade eleganti battute da turisti e non attirati dalle scintillanti vetrine che oscurano gli antichi palazzi e pensare che il nome della via deriva da un palazzo che alla fine del cinquecento apparteneva a un vescovo il vescovo bartolomeo ferratini proprietario del palazzo ferratini o farrattina da cui appunto via frattina il vescovo fatto cardinale muore due mesi dopo nel 1606 e avendo dei nipoti che dilapidavano allegramente almeno così si dice il patrimonio dello zio il palazzo passa di mano viene comperato da monsignor vives spagnolo di valencia che ha un progetto che porterà avanti insieme ad altri prelati giovanni leonardi della lucca in seguito santificato e martin de funes gesuita di valladolid che invece per le sue idee sarà espulso dall'ordine e forse avvelenato in quel di colle valdelsa il progetto prevedeva la formazione di preti secolari cioè non appartenenti ad alcun ordine religioso provenienti da tutto il mondo che una volta istruiti all'attività missionaria ritornassero nei luoghi di origine a propagare la fede nascerà da quest'idea la congregatio de propaganda fide istituita da papa gregorio 15 il bolognese alessandro ludovisi nel 1622 che prenderà in seguito il nome di collegium urbanum de propaganda fine nel 1627 sotto il pontificato di papa urbano ottavo al secolo maffeo vincenzo barberini che affida al fratello maggiore il cardinale antonio dell'ordine dei frati cappuccini come il famoso fra cristoforo di manzoniana memoria la gestione dell'istituzione il cardinale affida all'architetto gaspare de vecchi la ristrutturazione del palazzo nel 1639 e a gian lorenzo bernini la costruzione di una piccola cappella ma il de vecchi nel frattempo muore e il bernini si dovrà occupare anche della sistemazione della facciata ai lati del palazzo vengono sistemate molte botteghe sovrastate dalle api presenti nell'arma raldica della famiglia botteghe destinate al finanziamento del progetto e tuttora esistenti ma nei primi anni 40 del seicento muoiono sia il papa che il cardinale e l'ascesa al pontificato di giovan battista panfili con il nome di innocenzo decimo provocherà un clima ostile ai barberini e al loro entourage di cui fa parte il bernini che almeno nei primi anni del pontificato viene messo da parte di fatti quando si decide di costruire un territorio dedicato ai re maggio al posto della cappella del bernini viene scelto il rivale francesco borromini che distrugge la precedente opera penso con una certa soddisfazione ricostruendola da capo la finirà intorno al 1665 pochi anni prima di morire ora dovete sapere che il bernini abitava proprio di fianco al palazzo e si racconta che il borromini per sbeffeggiarlo scolpì a stucco due orecchie d'asino forse in riferimento ai due campanili costruiti dal bernini sul panteon e giudicati orribili dei romani che li soprannominarono appunto recchie d'asino ma la risposta non si fa attendere dalla sua casa spunterà un priapo di marmo che ancora troneggiava in casa degli eredi a fino ottocento secondo la testimonianza di stanislao fraschetti autore di un'opera sul bernini per la cronaca i campanili furono abbattuti a fine ottocento per la facciata il borromini ricorre allo stesso strada gemma utilizzato nell'oratorio dei filippini poiché l'oratorio ha il lato lungo parallelo alla strada l'entrata non darà l'accesso diretto alla chiesa ma si dovrà entrare girare a sinistra per entrare e visto che la facciata ha necessariamente l'entrata al centro il borromini prolungherà la costruzione anche sul lato destro dove all'interno ci sono solo ambienti civili i temi sono quelli che rea l'architetto il ritmo il senso del movimento è sottolineato dalle curve dai cornicioni fortemente sporgenti e dal disegno alternato delle finestre eppur rimanendo il dubbio per chi guarda se si tratti della facciata di un palazzo di una chiesa il borromini piazza sopra l'entrata un cherubino e più in alto il monogramma di cristo di costantiniana memoria entrando si rimane sconcertati non ci sono marmi preziosi tutto è all'insegna della semplicità ma è una semplicità apparente che assume toni di insolita sopra eleganza nell'epoca del barocco e che in definitiva da una connotazione precisa all'architetto borromini niente chirigori niente capitelli sulle paraste che da terra si innalzano fino alla volta inglobando i cornicioni niente archi a definire gli ambienti ma tutto sorretto da una robusta architettura che smussando gli angoli amplia il volume della chiesetta e che trova nella volta a costoloni che partono dalla sommità delle paraste una soluzione fatta di geometrie che sostituiscono il classico e pesante soffitto a cassettoni o l'altrettanto pesante affrescatura della volta stessa la chiesa presenta oltre l'altare centrale quattro cappelle laterali dove sono inseriti i tele di vari pittori alcune delle quali risalgono alla cappella del bernini a destra entrando la conversione di san paolo con la famosa invocazione del signore saulo saulo perché mi perseguiti di carlo pellegrini pittore della cerchia del bernini realizzata intorno al 1635 a seguire una donna tre santi filippo neri e carlo borromeo databile intorno al 1666 di carlo cesi pittore allievo di pietro da cortona mentre nell'altare centrale troviamo l'adorazione dei re magi del pistogliese giacinto gimignani del 1634 pittore inizialmente allievo anche lui di pietro da cortona per poi assumere via via una visione più classicheggiante in alto proprio sotto l'insegna di alessandro settimo il senese chigi opera di cosimo fancelli si può vedere la missione degli apostoli del pistogliese lazzaro baldi che ricordiamo è anche l'autore del martirio di sant'andrea situato nell'altare centrale dell'omonima chiesa a un centinaio di metri tornando indietro troviamo ancora una crocifissione di ludovico gimignani romano figlio di giacinto e infine la vocazione degli apostoli pietro e andrea di andrea camassei umbro di bevagna che si limita però a copiare il vasari in un'opera attualmente conservata nella badia delle sante flora e lucilla ad rezzo nelle sei nicchie sovrastanti le cappelle troviamo i busti dei benefattori del collegio che per la loro compostezza rimandano alla scuola di alessandro al gardi per la cronaca sono da sinistra monsignor vives il cardinale antonio barberini il cardinale augusto galamina da brisichella il fiorentino roberto baldini il veneziano federico corner e giovanni savenier da lieggi tutti qui ricordati per i cospicui lasciti donati alla congregazione un saluto david lab no 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 no